Le notizie non sono belle, ieri ho avuto la possibilità di vedere nel mio territorio a Pisa, purtroppo i danni sono tanti, diversi stabilimenti balneari sono stati praticamente portati via, lo stesso a Massa, a Carrara, ma tanti problemi ci sono anche nel centro della Toscana. Incontrando il Presidente Gianni ieri ho chiesto se fosse possibile valutare la possibilità di uno stato di emergenza regionale, credo che oggi ne discuteranno in giunta. Noi faremo la nostra parte, abbiamo delle risorse come Consiglio regionale per le calamità naturali, per questioni ambientali e nel prossimo ufficio di Presidenza se ci sarà uno stato di emergenza regionale faremo la nostra parte con le risorse a nostra disposizione.